Siamo molto orgogliosi e felici di avere ricevuto questo premio etichetta dell'anno su un vino particolarmente interessante perché è molto innovativo e quindi è un prodotto che disegna un po' il futuro non solo di Masi ma anche forse il futuro del vino perché è un vino che guarda appunto a domani un vino totalmente sostenibile, incluso il packaging e nel packaging c'è ovviamente anche la bottiglia una bottiglia alleggerita di soli 400 grammi l'immagine di Masi pur essendo proiettata al futuro è sempre quella iconica che vediamo anche qua in un'etichetta storica che è stata ovviamente interpretata in chiave evolutiva con colori contemporanei che tra l'altro anche diciamo sono ammiccanti per un pubblico più giovane come appunto il vino stesso che è assolutamente dedicato anche ai giovani